Mozzanica e AGSM Verona si affrontano in terra bergamasca nel big match dell'ottava giornata di Serie A. Si gioca nell'inusuale orario delle 13 per consentire alle atlete azzurre di raggiungere il raduno dell'Italia in partenza per il Brasile. Rientrano nel Verona di Criscio e Williams, ma Longega deve rinunciare all'ex Emanuela Giuliano infortunata. Le scaligere partono bene e passano in vantaggio dopo sette minuti. Calcio di punizione della trequarti per l'atterramento di Gabbiadini battuto da Federica Di Criscio che pennella il cross in area dove Martina Piemonte al volo gira a rete la sfera. Poco dopo ancora scaligere pericolose con Campitan Gabbiadini che va via sulla destra, si accentra e chiama Gritti alla deviazione in angolo. La risposta delle bergamasche arriva con la staffilata di Baldi con palla che esce di un nulla. Al ventiduesimo ci prova l'ex gialloblu Valeria Pierone che chiama Talman alla deviazione plastica. Le veronesi non sfruttano a dovere un paio di ripartenze e allora ci prova ancora il Mozzanica. Baldi prova a assaggiare le qualità di Talman che si rifugia in angolo. Il Mozzanica va vicinissimo al gol con Pierone che supera Di Criscio ma calcia di un soffio alato. La rete del pareggio giunge al trentanovesimo quando Giacinti dal limite non lascia scampo a Talman. Poco dopo il direttore di gara espelle per proteste il tecnico scaligero Longega che si accomoda in tribuna. Il Verona prova ad abbozzare una reazione ma la conclusione di Gabbiadini termina alato. Il tempo si chiude con le girate di prima intenzione da parte di Giacinti e Stracchi che non trovano la porta. Al tredicesimo della ripresa le Lombarde passano in vantaggio. Pellegrinelli lancia in area Di Criscio scivola e Giacinti va via libera per trafiggere l'incolpevole Talman. Le gialloblu sentono il contraccolpo e subiscono subito la terza a rete ad opera dell'ex Valeria Pierone che riceve una palla filtrante punta la porta e mette dentro il pallone del 3 a 1. Scaligere graziate da Pellegrinelli che calcia alle stelle mentre sull'altro fronte Piemonte cerca di colpire di testa scontrandosi con un'avversaria. Alla mezz'ora Melania Gabbiadini prova la conclusione a giro senza trovare la porta. La GSM Verona torna in partita al trentacinquesimo quando Angelica Sofia pennella un cross sul secondo palo che l'ex Aurora Galli incorna a rete. Non è giornata per le gialloblu che regalano alle bergamasche la quarta rete Talman coglie in controtempo di Criscio, Pellegrinelli gli ruba palla e Sarve Pierone per la rete del 4 a 2. La gara finisce qui con una sonora e meritata sconfitta subita dalla GSM Verona nell'ultima gara di campionato del 2016. Ora gli impegni delle nazionali prima della ripresa il 7 gennaio quando in via Sogare arriverà il Cuneo.